Grave scontro tra auto e camion lungo la 14A Marotta di Mondolfo. In arrivo due leambulanze e una persona è stata intubata al torrette di Ancona. L'incendio a Isola del Piano denunciato dall'autore del rogo è un sessantenne del posto che rischia fino a 5 anni di carcere. E' il terzo odiatore social rinviato a giudizio. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci annuncia il provvedimento adottato nei confronti di un leone da tastiera. In caso di condanna devolveremo le risorse ai progetti sociali. Boom di presenze per il fine settimana di Ferragosto. Gli alberghi fanno il pieno di prenotazioni con i turisti italiani. Il quartiere di Fano 2 è stato dimenticato e lasciato all'abbandono. L'appello dei residenti e del partito comunista che chiedono interventi urgenti al comune di Fano. L'assessore Brunori assicura a settembre una riunione e al posto della Fontana ci faremo un'aria verde. Dal 16 al 18 agosto torna Fano il Paglio delle Contrade. Un tuffo nel passato con le serate medievali in centro storico e sul lungomare. Inizia il tour di Fano TV alla scoperta dei giganti di cartapesta. Ecco i nuovi carri che faranno bella mostra di sé al prossimo carnevale estivo. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con il grave incidente, il grave tamponamento che si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 17 lungo l'autostrada A14 all'altezza di Marotta in direzione sud. A scontrarsi per cause ancora in fase di accertamento sono stati un'auto e un camion. A causa del violento impatto i sanitari del 118 hanno allertato ben due eliambulanze. Una atterrata poco distante e l'altra rimasta in volo con il medico che si è calato con il verricello. Due persone sono state trasportate in gravi condizioni al torrente di Ancona e uno dei feriti in proniosi riservata. Inevitabili anche i disagi al traffico con diversi chilometri di coda. Sul posto la polizia stradale per i rilievi di legge e i vigili del fuoco di Fano sono intervenuti con due mezzi che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti. E un'altra notizia di cronaca arriva da Isola del Piano dove i carabinieri forestali hanno individuato e denunciato l'autore dell'incendio divampato domenica scorsa. Si tratta di un sessantenne del posto che stava utilizzando attrezzature dalle quali sono partite le scintille che hanno innescato il rogo. Erano le nove di domenica scorsa quando da Isola del Piano era scattato l'allarme per un vasto incendio che si stava propagando con rapidità. Infatti a causa del forte vento e delle alte temperature erano andati in fiamme tre ettari di bosco e terreni coltivati. Mentre erano in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco e dei volontari dell'antincendio boschivo i carabinieri forestali della stazione di Pesaro sono riusciti a individuare in modo chiaro e rapido il punto di innesco delle fiamme, poi sono risaliti all'autore del rogo. I militari hanno utilizzato il cosiddetto metodo delle evidenze fisiche cioè una tecnica di investigazione di polizia scientifica che consente di scoprire anche la causa e il mezzo che ha provocato l'evento il tutto con uno studio delle tracce percettibili o dei segni che la propagazione del fuoco lascia a terra e sulla vegetazione. Così le forze dell'ordine hanno rintracciato il responsabile che per sua stessa missione stava impiegando attrezzature per eseguire dei lavori sul materiale metallico da cui sono scaturite le scintille che hanno dato origine all'incendio. La vegetazione secca e le condizioni climatiche hanno favorito il rapido estendersi delle fiamme ed ora l'uomo, un sessantenne residente a Isola del Piano è stato denunciato in stato di libertà per incendio boschivo colposo un reato che prevede una pena da uno a cinque anni di carcere. Inoltre nella stessa giornata un altro rogo scoppiato nelle prime ore del mattino aveva bruciato circa 20 ettari di bosco nel comune di Macerata Feltra nella provincia pesarese a farne le spese sono stati alberi di roverella, carpino nero e una pineta di pino nero andata completamente distrutta dalle fiamme che hanno interessato le chiome delle conifere. Le indagini tuttora in corso sono particolarmente complesse per la vastità dell'area interessata e sono portate avanti dai militari della stazione locale dei carabinieri forestali. I primi riscontri non fanno escludere anche in questo caso l'origine dolosa. È il terzo odiatore social rinviato a giudizio è la frase scritta su Facebook dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci che ha spiegato avevamo detto stop all'odio e abbiamo cominciato a denunciare ora la giustizia sta facendo il soccorso e il fatto che li abbiano rinviati a giudizio significa che hanno preso sul serio la questione aspettiamo la decisione dei giudici e la rispetteremo qualunque essa sia se sarà favorevole a concluso Ricci devolveremo a progetti sociali le eventuali risorse che saranno condannati a pagare Cambiamo argomento si avvicina il fine settimana di Ferragosto e gli alberghi registrano da tempo il tutto esaurito a prenotare le camere sono stati in particolare i turisti che provengono dal nord Italia Segnali positivi dal mondo del turismo dopo i numeri importanti registrati nel mese di luglio ora è un vero boom di prenotazioni nonostante la pandemia e le norme anti-covid rimane la voglia di viaggiare soprattutto nelle città più tranquille che offrono iniziative e attività per adulti e bambini come Fano dove le strutture ricettive hanno fatto il pieno di prenotazioni a dare manforte alle presenze è l'esclusione del Green Pass infatti la carta verde non è richiesta per soggiornare in hotel né per pranzare o cenare nel ristorante al suo interno sempre che il servizio sia dedicato ai clienti ospiti è una cosa eccezionale noi parliamo di avere delle prenotazioni fino alla fine di settembre quello è importante perché abbiamo fatto una buona promozione e il turista ci sta chiedendo le strutture piccole sicurezza il buon mangiare il buon bere però abbiamo tenuto nella qualità e il turista è molto contento di questo ci sono anche degli eventi che attireranno turisti? i cori polifonici il raduno dei cori polifonici il brodetto il campionato di paracodutismo il raduno dei biker il raduno dei ciclisti perché il nostro come dico sempre noi siamo nell'ombelico del mondo abbiamo tutto a portata di mano Urbino Mondavio Pergola Gradara adesso stanno arrivando dormono qua e vanno a visitare le grotte di Frassassi Cecchini poi ha ringraziato il comune di Fanno per la promozione e gli operatori turistici e balneari che ce la stanno mettendo tutta ha detto e i risultati si vedono infatti secondo un'indagine condotta da CNA Turismo e Commercio fino al 19 agosto sono ridotte al lumicino le speranze di trovare un posto per dormire nelle strutture della provincia inoltre risulta che i numeri del mese vacanziero per eccellenza sono esaltanti addirittura meglio di quelli del 2019 anche a Pesaro si registra il tutto esaurito i nostri turisti fondamentalmente vengono dal nord Italia tantissimi toscani romani ecco dall'estero ancora poche poche persone e per il fine settimana di Ferragosto sono tante le prenotazioni fine settimana di Ferragosto siamo al completo con queste introduzioni eravamo un green pass si green pass non green pass insomma eravamo un pochino preoccupati però ecco la nostra clientela non si è fatta questo tipo di problemi sono tranquilli loro stessi e nonostante varie disposizioni e quant'altro insomma per le quali possiamo essere d'accordo e non d'accordo quindi con lei non è d'accordo dipende dipende io ho fatto il vaccino non ho problema a dirlo eccetera ma questa situazione del green pass insomma mi lascia un po' così sì nonostante che io abbia fatto il vaccino e quindi non ho niente contro a questa cosa qui però ecco il green pass è un'altra cosa secondo me e sono 199 i positivi al coronavirus rilevati nelle marche nell'ultima giornata in testa rimane la provincia di Macerata con 80 casi negli ospedali invece cala ancora il numero delle persone ricoverate in particolare nei reparti non intensivi nelle ultime 24 ore non sono stati registrati i decessi legati al virus e avanza il degrado nel quartiere di Fanu II il partito comunista italiano accusa le amministrazioni degli ultimi anni per averlo lasciato all'abbandono le amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi 17 anni compresa l'attuale si ricordano che esistono questo ed altri quartieri solo in occasione delle campagne elettorali è l'accusa del partito comunista italiano che punta i riflettori sullo stato di degrado di Fanu II sporcizio ovunque escrementi di cani disseminati nel parco giochi e una totale assenza di controlli con schiamazzi e corri da stadio notturni e persino risse a dir poco vergognoso secondo il partito ai residenti è lo stato di piazza Capuana con una fontana semidistrutta e non funzionante che è l'emblema dell'abbandono della zona rappresentando al tempo stesso un potenziale pericolo per i bambini e i ragazzi che giocano abbiamo voluto fare questa denuncia perché vediamo che l'amministrazione comunale di Fano ha fallito tutti i suoi obiettivi per questo quartiere penso che sia sotto gli occhi di tutti non si può lasciare una piazza come questa all'incuria voglio dire sono 25 anni che la situazione è questa oltretutto manca anche la cura minuta nel senso che quando i cassonetti traboccano le isole ecologiche vengono trasformate in discariche i cestini dell'immondizia sono pochi e traboccano di rifiuti di ogni genere poi vengono svuotati ogni tanto ma appunto ogni tanto hanno costruito o fatto uno sgambatoio che non è uno sgambatoio perché è un recinto per cani e non ha risolto proprio nulla perché non è quello il modo di risolvere questo problema in un quartiere ci vogliono ben altre risorse ben altre strutture e manca la cura appunto più spicciola che dovrebbe essere la prima preoccupazione di un'amministrazione comunale la soluzione a questi problemi secondo il PC non può più essere rimandata d'accordo anche tanti residenti che chiedono più verde ma anche soste per le auto infatti molti sono costretti a parcheggiare lungo via Roma perciò gli spazi non c'è hanno messo in tutti i buchi hanno fabbricato il più possibile c'è una striscia di verde piccola diciamo per il quartiere qui a Monte che il comune da 40 anni che la deve espropriare insomma per farci qualcosa in questo quartiere quando noi abbiamo comprato casa il costruttore ci diceva che in quel lembo di terra sarebbero venuti anche dei parcheggi tant'è che nel nostro palazzo hanno lasciato anche le porte dietro e questo non se ne è più parlato poi manca che qui i bambini dove giocano in questa piazza e hanno ragione non hanno un altro posto e tanto ecco passano le carrozzine quando ci sono i bambini quando ci sono quelli che giocano è pericoloso passano le persone anziane ti prende una pallonata è pericoloso però questi ragazzi dove vanno dove vanno per questo nella stessa area a cui faceva riferimento la signora Maria Valeria chiedono di realizzare oltre a nuovi stalli per i veicoli anche uno spazio dedicato ai ragazzi è un richiamo un richiamo forte che facciamo e lo uniamo a tanti altri richiami che stiamo facendo cioè il nostro ruolo anche di chi a cuore la città è stato candidato e rappresenta anche insomma sensibilità liste civiche insomma proprio comunali e anche quello di un attimino andare a stimolare questa giunta che la vediamo un po' un po' immobile in generale allora vediamo un po' di dargli un po' la sveglia ed è arrivata la replica dell'assessore al decoro Barbara Brunori che assicura un nuovo incontro con i residenti e un intervento per la fontana verrà sostituita con un'aria verde assessore fanno due un quartiere lasciato all'abbandono dicono alcuni residenti ma anche il PC che cosa risponde? assolutamente no questa amministrazione in questi anni si è presa carico delle necessità del quartiere tanto che ha realizzato un parco pubblico con dei nuovi giochi che sono a disposizione e molto vissuti dalla cittadinanza da bambine e famiglie io ci passo con regolarità e verifico sempre questa cosa abbiamo realizzato anche uno sgambatoio che naturalmente ha delle dimensioni molto più piccole rispetto agli altri ma questo i concittadini che ce l'avevano chiesto del quartiere ne erano a conoscenza ma pur di salvaguardare quello che era uno stato di igiene delle altre parti verdi erano stati voglio dire consenzienti per cui noi siamo andati avanti e non è vero che ci sono pochi cani all'interno perché ripeto frequentando quel quartiere sono la prima a vederlo per quanto riguarda invece sporcizia quindi dicono poca attenzione nella cura urbana ma anche parcheggi e fontani in particolar modo voglio aggiungere una cosa che proprio questa mattina sono stati lo stesso comitato a smentire una parte di queste dichiarazioni perché naturalmente hanno già anticipato quello che sto dicendo in questi anni noi abbiamo previsto anche tutto un piano del verde che non era prima fatto nel senso un piano proprio di gestione del verde per quanto riguarda la sporcizia molte volte dipende anche dal dal buon uso e il buon consumo che ne facciamo noi cittadini e questo purtroppo lo verifichiamo ai me in tanti altri quartieri non solo fanno due per quanto riguarda la fontana invece qui è vero è vero perché mi hanno già sensibilizzata proprio nella riqualificazione di quello spazio chiedendomi di non ripristinare la fontana ma di fare un'area vegetativa e sarà quello che faremo tanto che proprio per adempiere le loro richieste dopo le ferie chi vorremo incontrare si è parlato di una città dormiente così? ma assolutamente no viva Dio siamo una città talmente viva che in questi anni abbiamo riqualificato 32 parchi di cui 17 completamente nuovi proprio perché abbiamo sempre più bisogno di rigenerarci in spazi dove appunto si fa del gioco una studentessa disabile di 14 anni che vive in uno dei comuni dell'Appennino Marchigiano maggiormente colpiti dal sisma del 2016 sarà costretta per correre 180 km al giorno tra andate e ritorno per frequentare la scuola questo perché la sezione è scelta in un istituto di Tolentino ci sono appena 12 iscrizioni e quindi la classe non avrebbe requisiti numerici per essere formata così alla giovane è stato consigliato di optare per una sede scolastica a Civitanova ad oltre 90 km da casa sua della vicenda si sta occupando anche il presidente della regione Francesco Acquaroli che oggi ha pubblicato un post sulla pagina Facebook in cui ha annunciato di aver interessato della questione il ministro della pubblica istruzione è incredibile ha scritto Acquaroli che nel 2021 non si è garantito a tutti il diritto allo studio e in particolare alle fasce di popolazioni più fragili e questa mattina Acquaroli accompagnato dall'assessore all'infrastrutture Francesco Baldelli ha effettuato un sopralluogo sul tratto della strada statale 76 della Valdesino che la società quadrilatero Marche Umbria controllata da Anas ha aperto al traffico nell'ambito dei lavori di completamento della direttrice Perugia Ancuna da oggi quindi è possibile transitare su entrambe le carreggiate in configurazione definitiva a quattro corsie anche tra lo svincolo di Val Treara e quello di Serra Sanquirico per oltre 6 km dopo l'estate saranno eseguiti gli ultimi interventi di finitura che renderanno necessari dei brevi restringimenti di carreggiata Negli ultimi due fine settimana di agosto si svolgerà a Fanno l'edizione estiva della Carnevale da questa sera con Filippo Pucci vi porteremo alla scoperta dei carri allegorici ma anche del loro significato Come ogni anno torna il nostro tour alla scoperta dei carri allegorici e del loro significato e allora andiamo a sentire la voce dei protagonisti ovvero dei maestri carristi Lavori in corso e quasi in dirittura d'arrivo all'interno degli hangar di Viale Piceno per l'uscita dei carri in occasione del Carnevale estivo in programma il 21 e 22 agosto in zona Sassonia e il 28 e 29 agosto in centro storico tra Pincio e Borgo Cavour Tema dell'edizione 2021 Dante In questo primo appuntamento abbiamo sentito il giovane Matteo Anghera dell'associazione Carnival Factory con la sua creazione dal titolo L'amor perduto la perdizione Ho voluto soffermarmi sui punti deboli che studiando un po' Dante ho ritrovato che è il punto debole di tutti gli uomini che sono le donne Dante aveva una grande passione per le donne quindi ho voluto ricostruire una selva di tentazioni dove Dante ci stava ci stava bello comodo però verrà ripescato richiamato all'ordine da una Beatrice che si trova nel Paradiso quindi è un Dante un po' infatti ho rappresentato un Danque anonimo le vesti sono quelli di Dante però vuole rappresentare un po' tutti gli uomini il carro aggiunto poi il carrista è diviso su tre livelli viene rappresentato nella parte bassa l'inferno la selva appunto delle tentazioni poi nella parte centrale c'è la porta del purgatorio da dove poi in alto spunterà fuori Beatrice le ali degli angeli rappresentare il Paradiso nuove date per il palio delle contrade che era stato spostato per via del maltempo le serate medievali tornano a Fano dal 16 al 18 agosto si riparte il gruppo storico la Pandolfaccia ce l'ha messa tutta e dopo il rinvio dell'iniziativa a causa del maltempo ha riprogrammato le serate medievali del palio delle contrade i fanesi e i turisti potranno fare un tuffo nel passato nelle tre giornate del 16 17 e 18 agosto nel cuore del centro storico dal lunedì arriverà Pandolfo III Malatesta che inviterà tutto il popolo a spettacoli di bandiera giocoleria esibizioni di giullari e falconieri un evento ricco di attrazioni per un pubblico di ogni età lunedì 16 alle ore 19 si apriranno le porte della corte malatestiana dove tutti i visitatori tutte le persone che vorranno venirci a trovare fino alle ore 24 vanno alla possibilità di vedere uno spaccato di vita medievale quindi all'interno della corte malatestiana e anche un po' nei giardini leopardi potranno vedere tutto quello che era la vita all'interno della corte malatestiana nel 1400 ci sarà anche la possibilità di visitare il museo che sarà aperto occasionalmente per questa cosa e visitare il museo che contiene all'interno tanti reperti anche malatestiani medievali e non solo dalle ore 21 in piazza 20 settembre preve l'acquisto di prenotazione del biglietto gratuito online sull'applicazione live ticket si potrà vedere uno spettacolo lo spettacolo non sarà soltanto il nostro ma sarà un insieme di artisti che proporranno le loro arti i giocoglieri ci sarà un bravissimo giocoglieri di Fano che non svelo il nome per sorpresa però è famoso in tutta Italia quindi ci sarà anche da noi e i nostri spettacoli martedì invece altra serata sia alla corte malatestiana che in piazza 20 settembre tutti gli eventi saranno gestiti nel pieno rispetto delle norme anti-covid delle quali prevedono anche l'esibizione del Green Pass insieme a un valido documento di identità la prima serata è molto più spettacolare la seconda serata è incentrata sui festeggiamenti del matrimonio di Pandolfo III che è quello che noi rivochiamo e tanti spettacoli bei momenti e sempre logicamente su pronotazione e previo acquisto insomma del biglietto gratuito online sulla piattaforma Live Ticket infine mercoledì 18 agosto ci si sposterà a Rastat sul lungomare di Sassonia dove alle 21.30 andrà in scena la notte medievale una lunga serie di spettacoli a cura della Pandolfaccia nell'ambito del progetto Eluceman le stelle il biglietto avrà un costo di 4 euro e tutti i dettagli sono disponibili sul sito pagliodelecontradefano.it Ancora eventi buona affluenza di pubblico a cartocetto per stelle d'argento l'iniziativa ideata dal comune e dalla Proloco in collaborazione con il museo del Bali l'evento che si è svolto ieri sera ha unito enogastronomia di qualità promozione del borgo storico musica e scienza gli otto locali che hanno aderito a partire dalle ore 19 fino a tarda serata hanno registrato un'ottima affluenza di pubblico dopo la cena i partecipanti si sono spostati al museo dove hanno potuto osservare un cielo brulicante di stelle e gli astri grazie al planetario digitale inaugurato lo scorso anno domani all'arena BCC di Fano si torna a sorridere con la compagnia di Alettale Il Guitto mi fai fare certi figuracci eh sì sì c'hai sempre da discuta sul press sì le figuracci ma se quei sentiti sul press quei su Fender ma ma non ti insegna niente il 13 agosto al teatro Emanuele Emanuelli andrà in scena la compagnia teatrale Il Guitto con quale spettacolo? il lavoro si intitola Via Noltre che Armincia fatto appositamente per qui per Tre Ponti beh il titolo sicuramente azzeccatissimo insomma visto il periodo vista la ripresa la voglia di continuare insomma a riprendere a divertirsi esatto esatto è proprio questo il significato del titolo è uno dei significati del titolo è questo l'altro è anche perché è un lavoro ispirato a spettacoli a trasmissioni televisive quindi è un invito a vedere una trasmissione televisiva le risate sono garantite? sì sì sicuramente è uno spettacolo comico come un po' tutti gli spettacoli del Guitto che sicuramente farà divertire bene quindi continuerete a fare le prove ad oltranza fino alla fatidica data? sì facciamo delle prove separati perché abbiamo questo lavoro è diviso in sketch in tanti sketch in modo da evitare gli assembramenti abbiamo dovuto fare le prove così proprio per i limiti imposti dal dal covid e sì sì continueremo le prove fino al debutto quindi durante il debutto sarà emozionante anche per voi ritrovarvi sul palco tutti insieme dopo che avete recitato e fatto le prove separatamente? esatto sicuramente sarà così anche perché poi siamo fermi da un anno e mezzo a riprendere sarà un momento emozionante sicuramente e tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato al paese dei balocchi allora rimanete sintonizzati su Fano TV arrivederci a presto